Costringevano ad acquistare abiti scadenti a prezzi maggiorati, sei arresti nel Vesuviano. Questa notte in Castellammare di Stabia, Pompei, Algerola e Sanfele, i militari della compagnia carabinieri di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei indagati. Tutti sono ritenuti gravemente indiziati del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il complesso delle attività di indagine ha consentito di documentare una serie di estorsioni poste in essere dagli indagati, appartenenti tutti al clan gentile. Tramite minacce hanno costretto diversi commercianti e imprenditori dell'area dei Monti Rattari ad acquistare gadget pubblicitari, quali giubbotti e magliette, dal valore irrisorio a prezzi fuori mercato. I soggetti, ben consapevoli dello spessore criminale dagli indagati, non potevano rifiutare l'acquisto dei gadget pubblicitari alle condizioni particolarmente gravose imposte, essendo anche costretti a comprare polo, maglie, smanicati e altro sia nel periodo natalizio che in quello delle successive festività pasquali. È significativo al tal riguardo l'acquisto da parte di un imprenditore della zona di 30 magliette a prezzo di 34 euro circa cada una. Al termine delle formalità di dito, due indagati sono stati associati presso la casa circondaria di Napoli-Secondigliano, uno presso cura di Melfi e restanti tre sottoposti degli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni.